Allora Eglio, sei stato al Consiglio Comunale? Sì, stamattina ho avuto questa... E che è venuto fuori? Ma guarda Angelo, francamente sono rimasto esterefatto perché da cittadino mi sono presentato puntuale alle 9 E c'è l'ora dell'ASCA, no? Che non lo sai? Si è presentato il segretario e ha detto che la maggioranza non era presente, ha fatto vedere che la maggioranza non era presente, era presente solo l'opposizione Come ne era presente? Era vuota l'aula, Angelo, era vuota E allora che sei andato a fare? E di fatti me lo so chiesto anch'io, cui protesto dicevano i latini, per noi cittadini che andiamo al Consiglio Comunale che è deserto Cioè il Consiglio Comunale non c'è stato? Non c'è stato Vabbè ma io questo lo sapevo, infatti sono venuto a posto, ho fatto 1 più 1 uguale 2, me ne sono stato a casa Dove essere un segnale che mancava la televisione, non ho capito il messaggio Vado che prendo, aspetta e mo chiamo telefono a qualcuno vediamo che vi è fuori